Addio social. Albano ha deciso di prendersi una pausa dopo che una foto con Loredana lecciso ha scatenato polemiche e attacchi, alzando un be. Albano ha deciso di prendersi una pausa dopo che una foto con Loredana lecciso ha scatenato polemiche e attacchi, alzando un be. Carissimi amici e nemici hitters, ho deciso di prendere una giusta pausa di riflessione chiudendo i miei profili Facebook, Instagram e Twitter, scrive il cantante. I motivi sono i carissimi amici e nemici hitters, ho deciso di prendere una giusta pausa di riflessione chiudendo i miei profili Facebook, in poi Albano aggiunge, l'architetto Elena Spiga, persona a me cara da quasi 40 anni, ha seguito con amore, dignità e verità il mio profilo e in tutti questi anni tutto ciò che ha scatenato. Poi Albano aggiunge, l'architetto la vostra è una democrazia senza quelle basi di umanità e signorilità a cui attingere quotidianamente. Lo scrittore William Butler Reitz ha scritto, non ho previsto, per mancanza di coraggio intellettuale, che il mondo divenisse sempre più feo. I migliori hanno perso la fede, mentre i peggiori ardono di passi. Il cantante parla anche delle sue vicende personali, dopo un infarto, una ischemia un edema alle corde vocali, già sconfitto ci mancava solo questa guerra inutile, disgustosa. Il cantante parla anche delle sue vicende personali, dopo un infarto, una ischemia un edema alle corde vocali, già sconfitto.